buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici da Nicola De Lucia parliamo in questo secondo video della partita NBA che si è giocata questa mattina alle 4 Denver Nuggets Los Angeles Lakers di NBA fase regolare gara che dopo i primi 48 minuti è andata al tempo supplementare finita a 111 a 111 nel supplementare seppur di poco hanno avuto la meglio i Lakers di Lebron James per 120 a 116 statistiche giocatore top 3 Anthony Davis dei Lakers 33 punti Lebron James sempre dei Lakers 32 Mare dei Denver 32 punti andiamo con la cronologia dell'incontro primo quarto 31 23 secondo 55 61 terzo 87 84 quarto 111 a 111 nel tempo supplementare con pochi punti però a 116 a 120 diamo uno sguardo alla classifica i Lakers sempre primi ad Oves 41 vinte 12 perse i Denver secondi sempre ad Oves 38 vinte 17 perse nella prossima partita i Lakers il 22 febbraio in casa dell'Oklahoma City Thunder ok si settimi sembra ad Oves 32 vinte 18 perse la prossima partita i Lakers che avranno in casa dell'Oklahoma City Thunder ok si settimi sembra ad Oves 32 vinte 18 perse la prossima partita la prossima partita vinte 22 perse quindi chiudiamo ricapitolando che le Lakers hanno vinto sul campo di Denver per 120 a 116 dopo un tempo supplementare e grazie mille grazie per i tanti click che avete dato e state dando al video sulla partita di Coppa Italia di Serie C tra Juventus e Ferralpi Salò grazie mille ciao